Ten sounds official. Lo diceva il grande comico George Carlin in uno strabiliante monologo sui Dieci Comandamenti, che vi invito a recuperare. E anche Wrestlemania, ormai giunta alla decima edizione, diventa qualcosa di sempre più leggendario. Peraltro la fatidica cifra con il primo zero finale la si raggiunge senza la presenza di Hulk Hogan, fondamentale per il successo delle prime Kermesse, con un pool di teorici possibili sostituti come Lex Luger e Bretton Menard pronti a raccoglierne il testimone. Lo show poggia le basi soprattutto su questi due e sulla doppia occasione titolata che si sono guadagnati convincendo la rissa reale, dopo essersi eliminati a vicenda contemporaneamente quando erano gli ultimi rimasti nel ring. Che shock. Due convincenti, un coin flip si lancia la moneta, si decide chi affronta per primo Yokozuna, chi per secondo e chi invece, favorito da questa estrazione, dovrà comunque combattere in un match, tra virgolette, di riscaldamento. La leggenda, confermata da alcune interviste e smentita ovviamente da altre, vuole che la federazione desiderasse incoronare Lex Luger come nuovo campione. Ma quest'ultimo, così dicono i rumors, informato di ciò, sentendosi ovviamente galvanizzato al settimo cielo, andò a sbandierarlo un po' ai 420. Addirittura pare che lo disse praticamente a tutti gli avventori di un bar molto affollato, rendendo quella che doveva essere una sorpresa clamorosa, ecco, rendendola un fatto ormai di pubblico dominio tra insider e fans. È vero? Non è vero? Chi lo sa? Il wrestler, per la cronaca, ha sempre negato questa interpretazione dei fatti, dicendo che lui non ha mai agito in tale modo. Fatto sta che alla fine Lex Luger non riesce a battere il campione Yokozuna, è lui il primo ad affrontarlo, e perde per squalifica per colpa di un arbitraggio di parte di Mr. Perfect Cortening, con il giapponese che invece, beh, giapponese in storyline, che invece cede la corona a Bret Hart, che però, attenzione, nell'accesissimo opener della card, perde contro il fratello minore Owen. Per quest'ultimo è il match della svolta. È il risultato che gli cambia vita e carriera. Togliendolo dal mid-carding, tendente al low-carding, e soprattutto togliendolo dalla lunga ombra di Bret. E questo verdetto gli dà una dignità immediata come sfidante accreditato per tutte le corone della federazione. Io ricordo che vedendo il match mai, mai avrei pensato ad un finale del genere, e invece, con il senno di poi, la WWE fece un piccolo capolavoro. Fece veramente un lavoro eccelso di sviluppo del personaggio di Owen, usando oltretutto la Kermesse per avviare l'immediata nuova stagione successiva con diverse rivalità già pronte ad esplodere. Cortenich e Alex Luger, Bret Hart con Owen Hart, Yokozuna sempre in giro come possibile mina vagante. Insomma, Vrestelmania terminò con un rimischio di carte e con una situazione, insomma, che ti invitava a continuare a guardare. Un po' ovunque, per quanto riguarda questa Kermesse, si esalta il leather match tra Shawn Michaels e Rezor Ramon. Ma ai tempi, in me, devo dire la verità, non creò tutto questo entusiasmo. Magari tutto ciò accade perché ero abituato alla scena giapponese, sin da bambino, però lo trovai piacevole, chiaramente, però niente di più. Oggi in molti lo inseriscono tra i tre o i cinque migliori match della storia di Vrestelmania. Eppure, parere soggettivo, chiaramente, non è vangelo. Io continuo a ritenerlo un po' sopravvalutato e, di sicuro, non lo metterei in un'eventuale classifica, e sapete quanto le odio, in una posizione di ranking così alta. In generale, però, andando un po', insomma, alla fase che preferisco, quella dello storytelling personale, ecco, in generale Vrestelmania 10, per me, è quella della solitudine. Perché nessuno dei miei conoscenti abituali segue più la WWE come prima. È un processo che già vi ho raccontato, ma qui siamo al culmine, siamo al definitivo calvario. Perché? C'è chi si stacca, chi capisce appieno che è uno spettacolo, chi fatica, comunque, a seguirla in televisione, chi, insomma, inizia a frequentare le prime ragazze, ha le prime storie d'amore, chi preferisce, insomma, dedicarsi ad altri hobby. Fatto sta che io rimango da solo tra quelli che conosco a guardare la WWE. Tra l'altro, ho 17 anni, vado a scuola a Bergamo, nelle scuole superiori, e questo mi permette di cambiare, almeno parzialmente, il giro delle mie frequentazioni. E per fortuna che cambio città, almeno nei viaggi, metto il piede in due scarpe, quindi la cambio dal punto di vista del profitto scolastico, perché questo mi permette di riuscire a restare legato al wrestling principalmente con i magazine di importazione, che acquisto a peso d'oro alla stazione delle autolinee del capoluogo Lombardo, in un'edicola che, ahimè, ora non esiste più. Hanno riqualificato tutta la zona, tutti i negozi della mia gioventù sono spariti, li avrei rivisti veramente volentieri. Quando, qualche anno fa, sono tornato a Bergamo, la prima cosa che ho fatto, c'ero andato per un torneo di Magic, è stata andare alla stazione delle autolinee, e non c'era più niente, non c'era più niente. E ho sentito una parte di me mancarmi, anche se non la vedevo quella zona da tanto. Però, c'era il negozio di dischi, avevo comprato lì il primo disco dei Timoria, dei Marlene Kunz, dei Karma, avevo preso anche Inegrita, Paradisi per Illusi, che mi era piaciuto molto, che era un mini CD, quando, chi erano Inegrita, boh, beh, insomma, non lo so, ho anche il briociaro, il negozio di computer, vabbè, insomma, sono un vecchio boomer. Ma, tornando ai magazine, ricordo ancora il primo che comprai. Con mio padre eravamo andati ad iscriverci all'istituto, io ero stato bocciato in prima superiore, qui nella mia città, Alecco. Allora, stessa scuola, indirizzo diverso, ho detto, andiamo via, non è un ambiente sano, a Bergamo è meglio. E eravamo andati a visitare l'istituto, credo a iscriverci, come vi ho detto, e tornando verso la stazione, io la vidi lì, in vetrina. La rivista costava una bella cifra, credo sulle 7.000 lire di allora. Per darvi un'idea, con 2.000 lire prendevi un trancio di pizza, anche abbastanza grosso, da asporto. Le discoteche, credo nella mia zona, costassero sulle 15.000 lire. Con 7.000 lire facevi birra e panino, più o meno, giusto per capirci. Io ho dovuto insistere un sacco per convincere mio papà a comprarmi quel magazine. In copertina, sicuro, c'erano i Road Warriors, conosciuti in WWE come Legion of Doom. E per me è stata un po' come la numero zero di Paperon de Paperoni, visto che poi, dopo quel primo esborso, ne seguirono moltissimi altri, dirottando sulla carta stampata i soldi della paghetta mensile, e poi quelli guadagnati con qualche lavoretto saltuario. Così, al sabato sera, i miei coetanei andavano in discoteca, e io stavo un po' con loro. Poi avevo speso tutto per il wrestling, per i fumetti e per i libri, che belli che erano i libri della Newton, 100 pagine, 1.000 lire. Poi c'erano quelli più grossi, a 3.000 lire qualcosa, opere immortali, cioè io le compravo, le leggevo, mi piaceva un sacco. Ad ogni modo, passavo qualche ora con i miei coetanei, avevamo le prime moto, qualcuno iniziava ad avere la patente, e loro, se andavano in birreria, potevo aggregarmi. Se andavano in discoteca e accadeva spesso, beh, a me quella musica neanche piaceva troppo, e non avendo i soldi necessari, che probabilmente non avrei speso per quella finalità, e chinavo il capo, li salutavo e tornavo a casa. Quante riviste ho oggi? Non lo so, la risposta vera è non lo so, spesso dico 10-12.000, ma non le ho mai contate. Molte, ammetto che non sono conservate bene, e francamente credo siano una mezza poltiglia di inchiostro in forme. In generale, di buone a livello collezionistico, di sicuro ne ho qualche migliaio. Senza voler esagerare, 5-6.000, credo, buone, in condizioni buone, insomma, precise, perfette, la cifra dovrebbe essere questa. Poi c'è la letteratura sfusa, non catalogata, in un armadione enorme, strapieno, dove però lì mancano le copertine, le pagine, la graffettatura si è rotta, insomma, sì, ci sono, ma non sono di stampo collezionistico. C'è però un altro evento fortunato, di cui vi voglio parlare, che mi ha aiutato a mantenermi fidanzato con il wrestling in quegli anni, perché un mio compagno di classe, un giorno, vedendomi leggere, credo, un The Wrestler, quindi uno dei mensili di importazione, mi svela che ha un cugino appassionato come me, che oltretutto possiede centinaia di videocassette originali. Cioè, in Italia, una videocassetta originale, 39.000 lire, cioè, erano carissime, perché, appunto, c'era l'importazione, era proprio un prodotto di lusso, e di lì a qualche giorno me lo presenta, e scopro che abita a 15 chilometri circa dalla città in cui risiedo. Ecco, iniziamo a parlare, a salutarci, a fare due chiacchiere, lui, oltretutto, sa i risultati dei pay per view, subito o quasi, ha dei contatti sparsi, soprattutto in Europa e soprattutto in Inghilterra. E riesco a farmi invitare a casa sua, e lui mi mostra il suo tesoro. Sono centinaia, veramente, di VHS, in una collezione, che lui, di tanto in tanto, per ampliarla, perché in Italia arrivano col contagocce, prende un aereo, va nel Regno Unito, quindi in UK, compra le nuove uscite e torna indietro. È anche un ragazzo molto atletico, è appassionato di sport da combattimento, credo che ai tempi ne praticasse un paio, e ricordo, ad esempio, che una volta ci mostrò una perfetta spaccata in sospensione tra i sedili del treno, una cosa pazzesca. Fatto sta che questo ragazzo possiede non solo materiale WWE, ma anche NWA e qualcosa della AWA, ed è talmente generoso, davvero una persona squisita, che me ne presta un sacco. Io, devo dire la verità, non l'ho frequentato con assiduità, questo ragazzo, perché eravamo in scuole diverse, in giri diversi, e alla mattina, sul treno, quando ci si poteva incrociare, o si dorme, o si studia, o più probabilmente si copiano i compiti, ok? E non hai voglia di parlare di wrestling alla mattina alle sette. Tra l'altro, io il treno lo prendevo dopo aver già preso un pullman. al ritorno poi non ci si incrocia quasi mai, perché ogni istituto ha i suoi orari. Eppure, mi diede veramente un sacco di VHS da vedere. Io scoprì i Ric Flair, la NWA, degli incontri memorabili, degli atleti straordinari, di cui però avevo soltanto visto le foto. Il wrestling, non WWE, e a volte anche WWE, andava avanti con le immagini, con le parole, ma non con la visione. Lui mi permise non solo di essere al pari coi tempi, ma addirittura di accumulare una visione storica che era assolutamente al di fuori della mia portata. E io ricordo anche che un giorno, dopo avergli riportato qualche VHS, io gli dissi profeticamente guarda che prima o poi io questa roba qua la commento in televisione. Era un po' il mio chiodo fisso. Tieniti pronto che quando accadrà ti chiamo, ok? Perché tu ne sai più di me. Cioè hai accesso a canali informativi migliori. Però lui mi replicò più o meno dicendomi che io nella sua visione ero fatto apposta con le mie abilità oratorie, con le mie capacità dialettiche, col mio entusiasmo per un ruolo del genere, mentre lui non si sentiva portato. E nei suoi sogni c'era invece di servire lo Stato, cosa che poi ha fatto entrando in uno dei corpi armati che presiedono all'ordine e all'applicazione delle leggi del nostro paese. La cosa curiosa e chiudo se no faccio un papiro. La cosa curiosa è che questo ragazzo l'ho rivisto per caso senza preavviso tanti anni dopo ancora grazie al wrestling perché era in servizio a Milano all'esterno del forum di Assago proprio in concomitanza con uno show WWE. uno dei primi dopo il nuovo boom degli anni 2000. Ci siamo riconosciuti, lui era cambiato poco, io ero un po' più grosso, però insomma esteticamente ero più o meno quello. Abbiamo parlato un po' e poi ognuno ha dovuto allontanarsi per adempiere chiaramente ai doveri del suo ruolo. Ecco, se mi avessero raccontato attorno a Vrestelmania 10 che sarebbe finita così in una di quelle mattine da sbadiglio sul treno probabilmente ci avrei creduto poco.